La domanda che ho fatto stiva, vabbè, se avete visto il film avete probabilmente colto qua e là delle citazioni, diciamo, in realtà le citazioni sono un omaggio a un tipo di cinema con cui sono cresciuto, che ho sempre amato, che è la commedia hollywoodiana, americana, ma soprattutto classica. Quindi quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura che Marco mi ha proposto, ho ritrovato nello script molte cose di quel cinema, la lotta tra i sessi, per cui lotta tra lui e lei, i classici vattibecchi amorosi, un po' di cinema appunto chiamavo di Wilder, di Oaks, di Kukor, e ho cercato in qualche modo quella, insomma di seminare queste citazioni nel film.